Contrada Pampinella, nei pressi della Stadale 115 c'è la Vittoria, pochi passi dall'ingresso della città. Benvenuti nella discarica a cielo aperto per eccellenza. Si trova di tutto, ma proprio di tutto, dagli elettrodomestici in disuso, alle cassette per la frutta, cartoni, bottiglie in plastica ed in vetro, materassi, mobili, vasche da bagno ed anche abbigliamento. Cumuli di spazzatura in ogni dove, veri episodi di inciviltà e degrado ambientale. E' stato un cittadino a segnalarci la presenza di quanto le immagini vi raccontano. Che non veniscono mai. Ma qui poi si trova di tutto. Di tutto, ma più avanti ancora, neanche se giriamo, c'è il sterro, c'è la fine del mondo. Perché i camionisti, uno o l'altro, tutti quelli che sono, con questo sterro, arrivano, scarregano otti e stavano, basta, è finito qua il discorso. Non c'è controllo a nessuna parte, nessuna parte. C'è un macello, scendono qua a commissione, è bene a dire che c'è due camion, per trovare tutta questa munizia, se c'è basta. E' vergognoso, è vergognoso. Uno passa da qua, può farsi una camionata, va a trovare qualche amico, è vergognoso. Io arrivai sotto il ponte e maneggerai, maneggerai. Perché ci vengono qua, una volta ci mette le camion, c'è un suo amico, carino. Insomma, io la mattina passo qua così, faccio una camionata e basta.